amiche ed amici del calcio 5 ben trovati con punto 5 speciale serie D e anche in questo spazio con me purtroppo c'è Carmine Sposta allora eccoci qua ringraziamo sempre anche attraverso questo spazio su YouTube tutti quelli che ci stanno seguendo esempio ti faccio un esempio breve è stato la settimana scorsa ero reduce dalla partita con il Napoli calcio 5 con il collega cameraman Peppe Merone che di Bacoli mi ha portato a mangiare una cosa a Bacoli al timone quindi ho cito volentieri anche ovviamente i partner sponsor dei club mi ha visto un dirigente dell'Olympic Cappella praticamente ha detto ma tu sei quello che fa punto 5 sul canale YouTube e ci siamo presentati siamo conosciuti e infatti hanno detto che ci seguono tutti quanti quindi ci fa davvero piacere perché poi attraverso queste cose la voglia di trasmettere le partite magari di ospitare un programma ne approfitto subito appunto per rilanciare anche quello che abbiamo scritto su punto 5 sul gruppo Facebook chiunque volesse riprendere una partita con le nostre telecamere affidandosi alla nostra esperienza da 15 anni nel futsal e anche la nostra visibilità può farlo così come ha fatto il quattro calci a Gragnano l'X-Man saremo un'altra volta a Gragnano domenica per la sfida tra Vitiello e X-Man sfida cruciale ci hanno già contattato altri club quindi chiunque volesse ospitare telecamere di punto 5 per una ripresa di una partita basta che contatti il nostro gruppo Facebook in privato oppure il nostro contatto il nostro account Facebook una mail a redazione chiocciola.5.it però in più noi vogliamo cambiare anche questa forma che ovviamente la stiamo facendo così in maniera sperimentale e amatoriale questo punto sulla serie D però vorremmo fare in modo che questo diventasse un appuntamento dei club e dunque andare ogni settimana magari a trovare una società in un locale anche perché può essere anche una forma di pubblicità per voi e poi vi spieghiamo come fare sempre contattandoci ai nostri contatti ovviamente Facebook oppure alle nostre mail punto 5 futsal campano e quelli della serie D per postare il sabato tutti i risultati ringraziamo anche Carmine Macri che ci sta dando una mano il sabato con Davide Ferrante ovviamente con Carmine e con me sempre a supervisionare il tutto Girone A risultati con il Club New 900 Borgo 5 8-2 Olympic Sinope 6-1 con lo Spartac Real Villa 8-4 con la Folgore Virtus Acerra Graditor 5-4 Sinuessa Sport Life 3-4 in classifica Club New 30 Olympic 28 Folgore 25 Spartac 23 Borgo 20 e via via le altre mi sembra che dover dire subito una cosa a proposito della Sinuessa giusto? Sì perché è stato respinto il ricorso del Cepalloni che ne parlammo la settimana scorsa qui sempre nello speciale serie D quindi la finale di Coppa Campania serie D sarà tra Sinuessa Mondragone e Real San Giuseppe quindi adesso aspetteremo solo la data e luogo per quanto concerne la finale. Club New 900 Acera che vince e mantiene la testa della classifica con il Sinope lì al secondo posto che approfitta del K.O. del Folgore San Vincenzo con il ritorno al successo del Real Villa Futsal la prima vittoria del posto posto Enrico Enrico caduta invece dello Spartac San Nicola mentre col paccio invece dello Sport Life appunto contro la neo finalista della Coppa Campania Sinuessa Mondragone e il Club New 900 Acera mantiene il miglior attacco con 65 reti all'attivo. I gol pervenuti allora Club New 900 con doppietta di Bigliardo poi Puzzone doppietta Piscopo, Laezza, De Rosa e De Clemente con Meta e Santillo che invece hanno realizzato per il Borgo 5. L'Olimpica Sinope invece ha vinto 6 a 1 con la tripletta di Zevola sempre molto attivo in zona gol. Cardillo, Montano e Aliberti poi un poker di Bortone, due di Loasses e due di Giusti. Ovviamente parliamo di Loasses il signor Guglielmo Loasses che ha oltre 40 anni non perde la voglia di giocare anche Giusti è un giocatore di categoria sicuramente superiore ha fatto per tanti anni la Serie C1 e la Serie C2. Per quanto riguarda il prossimo turno Real Villa Fuzz al Club New 900 dunque un test importante contro una squadra che si è rilanciata proprio per la capolista. Borgo 5, Olimpics Sinope, Gladia, Torra Sinuessa, Folgore, Sport Life, Spartac, San Nicola, Virtus, Acerra. Andiamo avanti. Girone B. Dragoni che vince sul campo di Atletico Reino 5 a 10, poi Campana, Partizan 2 a 6, Cusano, Ponte Randolfo 8 a 8, Casaldonese e Sanniti è stata rinviata per pioggia due volte perché non si è disputata sabato e ancora una volta non si è disputata per problemi di illuminazione al campo e anche per pioggia. Vedremo quale sarà il risposto del giudice sportivo in classifica. Dragoli 30, Cusano 27, Ponte Randolfo 25, Cerreto 24 e via via le altre. Carmi. Il pari tra il Cusano e il Ponte Randolfo favorisce la capolista che allunga momentaneamente a più 3 e a più 5 sull'inseguitrice senza avere partite in meno. Quindi è stato un colpo spettacolare poi 8 a 8. Sì, Cusano dopo il 9 a 9 col Dragone ha fatto 8 a 8 con il Ponte Randolfo. La Zdeca mantiene il miglior attacco con 98 reti realizzate e Cerreto invece mantiene una difesa imperforabile con solo 25 reti al passivo. Le reti del Partizan Mattese sono di Santo Massimo, Carrizzo, Doppietta, Pescatore, Itri e Riccio. Nel prossimo turno, quattordicesima giornata, Partizan a 3 di Coraino, Ponte Randolfo Campana, San Iti, Cusano, Cerreto Casaldunese riposa proprio la capolista Dragoni. Nel girone C invece la Cadorese perde sul campo del Calvi 6 a 2 e poi nei momenti in cui stiamo registrando ancora, se non riusciamo a metterlo in uno, dovrebbe essere questa sera dunque la sigla tra San Nazora e Mercogliano. Ariano Epitaffio 6 a 4, l'Arca Parazzisi 7 a 1. In classifica l'Arca 30 punti, Cepaloni 27, Calvi 24. Via via le altre. Carri. Partita rinviata per un lutto che ha colpito la società del Mercogliano quindi noi ci uniamo al Cordoglio. L'Arca che vince col Cepaloni che riposa quindi allunga più 3 la squadra e la capolista però il Cepaloni deve recuperare, deve giocare il turno che ha riposato. Montesarchio che comunque mantiene il miglior attacco con 64 reti realizzate, Cepaloni invece ha subito meno reti del Cerreto con 19 reti. Perfetto. Pellegrino poker, Romeo, Itzo, doppietta nelle reti proprio della capolista, l'Arca Montesarchio contro il Palazzisi. Nel prossimo turno, Mercogliano, Calvi, Cepaloni Ariano, Epitaffio, Montesarchio e Palazzisi, San Nazaro. Nel girone di invece il Real Futsal Casoria che vince con il Soccer 12 a 1, poi Futsal Ischi approcci da 2 a 1, Cappella Casoria 7 a 5, l'altro Casoria, Olympic Cappella ovviamente, Real Patria, Atletico Cardito rinviata per pioggia, Real Futsal Casoria 26 punti, Atletico Cardito 25, Olympic Cappella 20, Real Patria 19, via via le altre. Carmi? Cardito che rinviata la partita, il Casoria diciamo che attualmente la classifica è quella definitiva perché il Casoria avrebbe una partita in meno perché arriva già a riposare il Cardito o no. Settimana prossima scioglieranno tutti i due. Definitiva nel senso che hanno le stesse partite giocate. Il verdetto verrà rinviato da 7 giorni perché ci sarà Atletico Cardito contro il Real Futsal Casoria che valerà più di una fetta di stagione per entrambe le squadre. Casoria andrà là almeno con due risultati su tre perché in caso di pareggio ancora una partita come giolli. C'è il Cappella che comunque non molla la presa e lì a meno 5-6 in attesa di qualche palso falso di tutte e due le compagini. Torna a vincere l'Ischia con il derby delle Isole con il Procida per 2-1 quindi torna a sorridere la compagine di Leonardo Floio. 57 reti, il Real Futsal Casoria mantiene in miglior attacco mentre è anche la migliore difesa con 23 reti al passivo. Poker di Mazzocchi, doppietta di Uva, Buione, Cangiano, Savona, Falco, Scicchitano e Faccetti le reti del Real Futsal Casoria. Poi gli amici dell'Olimpica Pella che abbiamo conosciuto sabato venerdì sera con il poker di Meola e la tripetta di Tortorella hanno realizzato le sette reti che hanno steso il Casoria che era segnato con Esposito Lucenti Bonomo e due gol Capillo. Il Futsal Ischia invece ha avuto la meglio sul Procida grazie ai gol di Di Meglio e Monti. Righi l'autore della rete per il Procida, Arzano Cappella, Casoria Real Patria, Soccer Fischia e soprattutto il big match tra Teddico Cardito e Real Futsal Casoria. Nel prossimo turno girone è con queste sfide Macerone e Fressuriello 15-1 Olimpia Cisterna rinviata anche in questo caso per il maltempo. Cicciano Nola 3-1, Palmiras San Giuseppe 3-3 in classifica, San Giuseppe a 23 punti col Fressuriello Macerone 22 col Cicciano e col Nola. Che lotta, che battaglia per il primo posto. Ci sono state le dimissioni del presidente del Fressuriello Peppe Fanno. Su Facebook il presidente, possiamo definirlo X per quanto ha potuto dichiarare, ha rassegnato le proprie dimissioni non rallegando la sua dimissione alla sconfitta clamorosa del 15-1 del Fressuriello sul campo del Macerone che ha riaperto tutti i giochi perché anche la vittoria del Cicciano sul Nola e il pareggio del San Giuseppe sul campo del Palmiras ha permesso alle prime 5 di stare nel fazzoletto di un solo punto. Quindi tutto è aperto come anche ha dichiarato Pietro Antelmi, tecnico del Macerone che sta facendo davvero bene, segnare 15 reti alla capolista che non ha mai subito più di 3-4 reti a partita. È sicuramente un grandissimo colpo, si deciderà tutto all'ultima giornata secondo il tecnico Eccas Cerco del Millenio. Quindi Peppe Falco che lascia la presidenza, bisognerà vedere se poi alla fine potrà tornare su sui passi, lo abbiamo sentito con la relazione di punto 5, ha voluto sottolineare che le sue dimissioni non erano collegate a questa sconfitta. Già prima si era rotto qualcosa all'interno della società, agli libri mancanti, ha parlato addirittura che non c'erano più le emozioni di una volta. Quindi bisognerebbe vedere come andrà a finire questo campionato per il Fressuriello. Quindi l'Atletico Macerone grazie a queste 15 reti realizzate contro la società Vesuviana mantiene il miglior attacco con 67 reti all'attiva e San Giuseppe mantiene invece la miglior difesa con 23 reti. Cicciano che vince 3 a 1 grazie ai gol di Vecchione, Io e Meccaliendo, Di Martino l'autore del gol del Nola e poi il Palmiras contro San Giuseppe, De Vivo, Bocce e Gaito per i padroni di casa, Bocce per il San Giuseppe chiedo scusa con Boccia e De Vivo che hanno sbagliato due calci di rigore. Prossimo turno con Real Amicizia, Atletico Macerone, Nola Capri, Fressuriello, Palmiras e San Giuseppe contro il Cicciano. Girone F, allora Atletico Noncera, Angri 6 a 0, Lancora Matteo Solferino 13 a 0, X-Men Meta 7 a 4, Vitiello 4 calci 9 a 5, Polisportiva Gerola Noncera 9 a 1 in classifica, X-Men sempre leader a 36 punti, Vitiello 31 staccate tutte le altre con la Gerola 26, Lancora 22, 4 calci a 20. Carmi. Lancora che grazie al successo del 13 a 0 con Solferino entra prepotentemente nella zona playoff, si decide tutto sabato prossimo con l'X-Men Vitiello dove ci saranno anche le nostre telecamere, anzi domenica mattina, quindi una vittoria dell'X-Men chiuderebbe virtualmente tutti i giochi perché andrebbe a più 8, quindi a 5 giornate dal termine, quindi l'X-Men andrebbe sicuramente verso la serie C2. L'X-Men ha la miglior difesa con 32, quindi si affrontano anche il miglior attacco e la miglior difesa perché il Vitiello ha la miglior attacco con 88 reti realizzate, mentre l'X-Men ha la miglior difesa con 32 gol, quindi sarà davvero una bella sfida. Assolutamente sì, ricordiamo anche i marcatori proprio del Vitiello nell'ultimo derby anche con 4 calci Gragnano, 3 di Gallo, 2 di Palumbo, 2 di Semplice, poi Saracco e Popolo. 4 calci a Gerola, Matteo Solferino, Nocerino, Nocera, Lancora, Metangri, X-Men, Gragnano, Vitiello, ci saremo anche noi con le telecamere di Punto 5, chi vuole avere le telecamere di Punto 5 può farlo contattando la nostra redazione. Girone G, Rota che è sempre leader a 27 punti, ha vinto 6-0 sul campo dell'Audax, Primaria Luciana Fimas 6-4, Green Park Amarello 7-0, Lettieri Belvedere, Battipaglia 5-2, Rota 27, Lettieri 23, Cesinali 22, Battipaglia 20. Mini fuga di Rota che vola più 4 dalla seconda posizione che attualmente è occupata dalla Lettieri, però Rota ha una partita in più perché ancora deve riposare, quindi sarà sicuramente una cavalcata anche qui come tutti gli altri gironi emozionante con le prime tre con il Battipaglia pronto ad inserirsi in qualche defiance di qualche squadra davanti. Rota che comunque ha la miglior difesa con 21 reti al passivo, invece la Lettieri, grazie alle 5 reti rifilate al Battipaglia, il miglior attacco con 57 reti all'attivo. Perfetto, perfetto, i marcatori del Primavera Luciana dovrebbero essere questi qua, sì, Tenaglia, Cuozzo del Green Park ovviamente, Tenaglia, Cuozzo, Poppiti, Pecoraro, Bucciro, Caruccio e ancora Poppiti. Poi per l'Audax Salerno invece con il Rota, le realizzazioni del Rota, l'ho dato 2, Napoli due, Milito e Sessa per la capolista e poi la sfida tra Agostino Lettieri e Battipaglia, 1-0 Vietri, 1-1 Farina, 2-1 Lettieri, 3-1 Petrosino, 3-2 Farina, 4-2 e 5-2, realizzato da un storico bomber di Solofra, Parmigiano, anche lui come abbiamo detto si sono divisi perché Parmigiano gioca con Agostino Lettieri, Michele De Maio che abbiamo sentito invece in Serie C2 con l'altra squadra di Solofra e Sant'Andrea. Prossimo turno, Marello, Agostino Lettieri, Battipaglia, Adax Salerno, Fimas, Green Park, Cesinali, Primavera, Luciana. Girone H con 300 Alba, 8-8, Sanza, Agropoli e 5-0, Posedo, Controne, 9-5, Eoleboli contro Claravì, sospesa al 49esimo sul 5-5 per infortunio dell'arbitro, Sporting San Pietro, Campagna 6-9, Claravì sempre leader a 33 punti, Sanza a 30 punti, Campagna 30, Eoleboli 25. Carmi? C'è da dire che comunque nonostante la marcia inarrestabile del Claravì, Sanza e Campagna non sbagliano in colpo perché sono lì, hanno conquistato 10 vittore su 13 partite giocate, quindi veramente un percorso straordinario, qua solo quando ha dinanzi una squadra di categoria superiore per perdere questi tipi di campionati perché il Claravì tolto l'unica debacle le ha vinte tutte. Il Sanza mantiene la migliore attacco con 114 reti, mentre il Claravì è secondo con 107, 112 perché si era fermato a 5, poi bisognerebbe vedere come verrà recuperata la gara. Però la Claravì ha sempre la miglior divisa con 35 reti subiti. Perfetto, io il prossimo turno qui non ce l'ho, va bene, lo trovate su .5.it per quanto riguarda ovviamente i marcatori, ricordiamo che la vittoria del Sanza ha due doppietta di sasso, due chirichella e uno di donna. Abbiamo detto che la sfida tra Eoleboli e Claravì è stata sospesa al 49esimo sul 5-5, vi terremo infermati ovviamente sulle decisioni del giudice sportivo, ovviamente infortunio dell'arbitro. Va bene, potete postare, ricordiamolo, tutti i risultati sul nostro gruppo Facebook, .5, quelli della serie D ogni sabato, domenica, 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 ogni volta che avete notizie comunicate in stampa, anche a redazione chiocciola .5.it. Chi vuole ospitare le telecamere di .5 per una partita, così come già stanno facendo da qualche settimana, può contattarci in privato sull'account Facebook .5 Fuzzle Campano, sul nostro gruppo Facebook e anche sempre con la mail a redazione chiocciola .5.it. Grazie a Carmine. Ciao Fabio. Ci vediamo la prossima settimana e grazie sempre perché ci seguite in maniera splendida, numerosissimi ogni volta. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.